Bella a tutti ragazzi, io sono TheBroad, salutati su un nuovissimo video su Pixel Art e oggi vi fare un video ASMR, rilassante mettiamo i cubicini, mettiamo i cubicini tranquilli, rilassati ok, dopo andiamo qui, mettiamo questi qui soft, tranquillo, siamo rilassati noi non ci sta servendo tranquilli, sereni svegli più rilassante di un mondo Sara, non sentirà niente ok dai, basta dai, vediamo Sara faremo due Pixel Art insieme non c'è ne è andato, manca solo questo che figlio questo qua dovrebbe essere un girasole, un sole buon girasole o un sole questo, scrivetevi i commenti che non so cos'è finito, è incredibile, wow c'è un altro da fare che cosa è questa roba non è questo il prossimo da fare è lui tan 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 lui ogni episodio faremo due 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 ok, giù va bene adesso noi facciamo così andiamo giù guardiamo come sarà il primo è stato veramente semplice che ci ho messo un minuto nananana è bello, sto ragazzo che ho fatto qui nel mio Pixel Art e non l'ho mai fatto fare cose così cose di tutti i vicini di la santa nananana nananana ok adesso andiamo in giro andiamo di qui mi sono letto il blocchetto un problema grave ok che bello wow questo ci manca no sì che figo una guarda che figo facciamo il dopo il video più rilassante della storia ok facciamo colore tutto nero per la rondine che si è una rondine spero che non è una rondine perché da rondine mi piace oh my god come io c'è due papagalli facendo il volante sicura ragazzo problema non sei il numero che odio di più non riesco a farlo ok sono freddato sono bello non chiedetemi come anche se siamo agosto agosto si può prendere io sono sempre affreddato la mia vita questo è bello una volta non parlo perché voglio essere soft come ho detto nelle dice ok ok ma sto registrando vate ok adesso adesso mi ha finito sì ok il set non muovi perché il video può durare l'infinito io ho messo da un uai dai mettimi come mi raga guarda ci si so scarico adesso registrano solo col cavo perché io ci gioco e dove si scarica ho scorsato ma se gioco così perché non riesco a giocare veramente che cosa è sta roba per me e non lo sento ho visto tanto ora mi spaventa oh riesco a muovo oh ma che cosa succede ho detto si è obbligato a fare così sono già venuti raga la cosa è cosa ho fatto qui tre secondi su questo il telefono è il fango raga vado io mi sono preso veramente un infarto non c'è tutto il telefono macchiato veramente non so se vede questo video ce l'ho macchiatissimissimo c'è il nuovo mi sento le nove sono 10 minuti ancora 4 minuti ok veloce veloce io spero non gli video posso farmi le due perché se non riesco così il 13 solo uno ce l'ho da fare dai giusto 8 vai vai Enzo ok aiuto non vedo è qui è poco non è tanto mi sono a metto in modo ho fatto di scendere non so cosa c'è questo che c'è raga non riusciamo a corsa io sono briletto sto parlo alle alle 14 13 30 dai 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 ho avuto il video i video tutti i video che avete visto sul canale non li mai buttati non riesco a mettermi i blocchi è lungo ma è tutto il contorno alla cassa ora è semplice la dici raga dai dai non è tutto il contorno alla cassa ora è un po' di gioco non è tutto il contorno alla cassa ora è un po' di gioco non è tutto il contorno alla cassa ora è tutto il contorno alla cassa ora è un po' di gioco nemmeno solo il 14 e 15 e tutto sopra raga manca se riesco a essere il king delle pixel sono i video di 1 anno e 1 faccio una pixel su minecraft ma che solo il 15 potremmo fare in tempo la c'è la donna non fare se mi mette blocchi perché ho perso un minuto sopra mette blocchi perché non lo metto si ce l'ho fatta vittoria si fighissimo vabbè ce l'ho fatto il tempo ora iscrivetevi a mi piace se il video vi è piaciuto scrivetevi a mi piace scrivete nei commenti chi vuole essere salutato non dico bugie ciao ciao